Domani un intervisto di Aster, quante versione ha letto di un genio di video? Quindi poi dovete iniziare a portare una canzone? Tutti gli altri ce lo leggono sui calciavoli o in via, gratis e senza manco sapere che la canzone, perché neanche la canzone, va bene, ho capito la canzone, domine l'ho letto sui calciavoli o in via.